Un saluto e un augurio dalla Porziuncola, il luogo benedetto di Francesco, accanto al quale volle morire quel 3 ottobre del 1226. Oggi ricordiamo l'incontro di Francesco con sorella morte e quest'anno in particolare portiamo in questa memoria, in questa festa, la grande preghiera a Francesco, araldo di pace, per la pace nel mondo, nelle nostre famiglie, anche nella nostra Italia. A Francesco, patrono d'Italia, Francesco, fratello universale, affidiamo il grido di pace che sale dal mondo a Dio, lo affidiamo a Lui. Ecco, in questo spirito veramente buona memoria viva di Francesco, facciamo gesti di pace, poniamo concrete azioni e pensieri di pace e la benedizione del Signore per l'intercessione di San Francesco raggiunga ciascuno di voi, le vostre famiglie e comunità e veramente sia ricca di bene per tutti noi. Pace e bene.